Ogni anno decine di centinaia di migliaia di contenuti sui social network rimane non visto da nessuno, la foto del cane, la passeggiata in montagna, il compleanno della nonnatina, nessuno sarà in cula. E' così che giorno dopo giorno, delusione dopo delusione, caricamento difficile dopo caricamento difficile hai pensato veramente di farla finita? Hai detto, ma si questo telefono lo butto via, mi compro uno nuovo, uno più bello, mi pago un social media manager, vado a comprarmi follower in India. E invece poi hai deciso di fare la cosa giusta, sei andato a farti una bella passeggiata e il telefono è riuscito in macchina. Che tanto viene ancora niente a nessuno e te non ti cambia niente, ti rilassi, ti rilassi, ti rilassi, rilassati.